...per valutare non solo l'artista ma l'insegnante di Senezi. Prende omaggio a... E professor Berlanda, quante le scuole coinvolte in questo progetto e qual è il messaggio di Senezi oggi nel mondo della scuola? Allora, gli istituti convolti sono i due istituti di scuola media, Pergine 1 Ciro Andreatta, Pergine 2 Tullio Garbari e la scuola alimentare è dedicata al Luigi Senezi di Canale. Il messaggio che vogliamo esprimere con questo lavoro è che la scuola può esprimere, oltre che a sapere, il saper fare e la credita ai ragazzi seguitati e stimolati a scoprire quelli che sono gli artisti della realtà, diciamo, del nostro territorio. Oh, questo è stra-bello. Che che l'ha fatto? L'ordinello, stra-bello, stra-bello. Ma cos'è che l'ha fatto? L'ho su? No, la cina su. Ma, l'ho su? Qua? Mi fa piacere che ci sia Ivo Fluet perché in occasione della tavola rotonda con gli artisti e con i curatori del catalogo, Ivo Fluet ha espresso un concetto che è attualissimo, è cioè che Luigi Senezi è vivo, Luigi Senezi è attuale e la sua avventura è sempre con noi. E mai come adesso queste parole calzano a pennello per questa presentazione, la scuola è contro Luigi Senezi. Grazie. Grazie.